piccolo simulatore di vola alla veneta auto costruita naturalmente lucio da un saluto a tutti gli amici della via d'ora e dice ragazzi teniamoci in forma l'82 anni ragazzo ci tiene in forma ciao a tutti e a presto adesso faccio una bocachina fino a malamocco per prendere il solito ci chiedi in o pocio pò di frutta lì c'è da bollettrò a a a a a a a ciao a a a a a a a Grazie a tutti.